Mi porti a vedere del basket o la box a mani nude? Facciamo tutto. Sono Stanley Sugarman, faccio lo scout per i Savet Sixers. E così hai 22 anni. Perché non puoi entrare nel draft se hai più di 22 anni. Sì, ho 22 anni. Lui chi è? È mio figlio. Quanti anni ha? Lui ha 10 anni. Certo, certo. E a Philadelphia? Hai modo di crescere? Io voglio diventare coach. Ti piace stare lontano da casa? Abbiamo più possibilità di vincere se vai in giro a cercare. Perché continuo a inseguire questa cosa? Quindi vuoi rinunciare al tuo sogno? Ho lavorato nella Lega per 30 anni e alla fine non conto niente. Guarda qui! Se vieni a Philadelphia la tua vita cambierà completamente. Ho un lavoro. Mia madre e mia figlia sono tutto per me. La paga è di 900.000 dollari. Allora si darà malato. In tutti questi anni di lavoro mi hai mai sentito così entusiasta? È acerbo ma lo alleniamo. Lo prepariamo noi per l'NBA. Che mi dici? Non mi interessa, Stan. Dovrai continuare a cercare. Sai che ho perso il compleanno di mia figlia per nove anni perché non ero a casa? Non te lo sto chiedendo. La squadra non sa che lo tieni nascosto. Essere l'uomo che scopre un talento conta in questo lavoro. E Vin non ti licenzierà. Voglio prima capire quello che è meglio per lui. Boo ha una figlia da mantenere. Tu hai una figlia da mantenere. Da dove vieni? Spagna. Bello schifo. Non ce la fai? Benvenuto in America. Non era lui. Non gli somigliava nemmeno. Torno a casa domani. È questo quello che vuoi? Ehi, ami questo gioco? Io amo questo gioco. Io vivo questo gioco. Mettiamoci al lavoro. Il draft è tra sei settimane. Se vogliamo provarci, dobbiamo farlo da soli. Non ho dubbi, il ragazzo ha talento. Hai bisogno d'aiuto? No, tu non ne hai bisogno. Serve una scintina. Questo è merito tuo. Merito nostro? Ok, nostro. Grazie. 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 Grazie a tutti